13 febbraio 1903. Nasce a Liegi il romanziere belga di lingua francese Georges Simenon. Noto soprattutto come creatore del fortunatissimo personaggio dell'investigatore Maigret, Simenon pubblica nel 1932 uno dei suoi più noti racconti, l'Affaire Saint-Fiacre. Autore molto prolifico, si dice riuscisse a scrivere più di 80 pagine al giorno, Simenon oggi è tradotto in oltre i 40 paesi e la sua tiratura supera le 700 milioni di copie. Simenon muore vicino Losanna nel 1989. Solo a giochi fatti è ovvio, le ore assumono tutta la loro importanza.